bentornati a curiosity ink the cat oggi affronterò una delle domande che più frequentemente mi vengono rivolte ovvero fa male farsi fare un tatuaggio ed è una di quelle domande a cui non è semplice rispondere innanzitutto vi dirò che la sensazione legata al tatuaggio non può essere paragonata esattamente a quella che viene normalmente definita dolore io tendo a paragonarla più ad una sensazione di bruciore un bruciore che può essere paragonato a grandi linee che può portare alla memoria più o meno quello che può essere il graffio di un gatto la differenza sostanziale sta nel fatto che quando ti graffia un gatto poi la pelle brucia anche dopo perché viene lacerata mentre nel tatuaggio nel momento stesso in cui io stacco la macchinetta dalla cute la persona non sente più nulla quindi diciamo che i fattori che intervengono nella nell'intensità della sensazione provata sono tre la prima sicuramente è la mano del tatuatore perché la mano di un tatuatore può essere leggera o pesante e questo è il primo fattore io dico sempre se uno schiaffo te lo da tua madre si fa male però oddio si può sopportare se uno schiaffo te lo da mike tyson credo che la differenza sia decisamente notevole la seconda secondo fattore che entra in campo è la zona del corpo che ti vai a tatuare e la terza è il grado di sopportazione che tu hai nei confronti di questa particolare sensazione quello che ho visto come esperienza personale è sicuramente è che la donna riesce a sopportare decisamente meglio questo tipo di fastidio mentre l'uomo è un pochettino più insofferente perché diciamo che l'uomo riesce a sopportare bene un dolore molto intenso ma di breve durata mentre la donna sopporta più tranquillamente un qualche cosa di meno intenso ma che si protrae nel tempo vedi la ceretta vedi la pulizia del volto eccetera 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 allora qui ho preparato una tavola per farvi vedere a grandi linee più o meno come può essere la mappatura ripeto in base a quella che è la mia esperienza non prendetela come oro colato perché ognuno è fatto a modo proprio quindi magari qualcuno nelle zone che io ho fatto verde sente diciamo arancione e qualcun altro nelle zone rosse sente verde mi è capitato più di una volta di avere a che fare con delle persone che tatuate in posizioni dove per logica avrebbero dovuto patire l'impossibile assolutamente non avevano nessun tipo di problema a sopportare la cosa e viceversa allora come potete vedere dalla tavola bene o male i punti particolarmente dolorosi sono collocati nella zona delle articolazioni quindi gomito interno ed esterno ginocchio interno ed esterno vicino al polso vicino alla scella vicino alla caviglia poi c'è una zona che viene data come la più dolorosa in assoluto del corpo che è la zona del costato perché purtroppo questa zona del corpo per il il fatto che la pelle è molto sottile molto delicata e subito sotto ci sono le costole la fanno passare per la zona più dolorosa di tutto il corpo poi potete vedere che invece le zone verdi ovvero quello che assolutamente si sente pochissimo sono le zone tipo la spalla e il bicipite la scapola l'avambraccio in zona superiore e il gluteo nel quadrante dove vengono fatte le iniezioni oppure la coscia ecco diciamo come mettiamo in questa in questa maniera nella zona dove si sente di meno solitamente caratterizzata da una forte e grande muscolatura al di sotto della cute guardatevi la tavola fatevi un'idea e però il mio consiglio spassionato è non decidete di fare un tatuaggio in un punto del corpo solo perché lì dovrebbe non fare male fate il tatuaggio dove lo volete e se proprio proprio durante la realizzazione vi rendete conto che un dolore particolarmente intenso sono più che sicuro che il vostro tatuatore o la vostra tatuatrice sarà tranquillamente disposta a spaccare la seduta in più tempi per far sì che voi possiate ottenere quello che volete dove volete come lo volete ok come al solito vi lascio la mia mail come solito vi invito eventualmente a mandarmi altre domande e intanto penso a che cosa tratteremo nella prossima puntata ciao grazie a tutti